L'ora esatta e offerta da... TANI IBABI Buongiorno Badani Aiutiamoli a casa loro Aiutiamoli a casa loro Questi ne ho il terreno Bravo Aiutiamoli a casa loro A casa loro, a casa loro Gruzman, Gruzman, aiutiamoli a casa loro Sono giapponese, giapponese Aiutiamoli a casa loro, a casa loro Aiutiamoli ad aiutarci Aiutami ad aiutarti Aiutami Aiutami ad aiutare me, ad aiutare tutti Mauro, a sottotitoli Nanananana Nanananananana KA Fuori! Immigrazione, che non è immigrazione ma una vera e propria esodato.